Ciao ragazzi, e ora sono più energetica di prima volta. Ora provo a dire come suono bene il flauto. Allora, mi farò vedere cosa andrò. Mi sono fulmini. Fulmini, però per i modi. Mi sono fulmini. Mi sono fulmini. Mi sono fulmini. Allora, facciamo tutto di nuovo. Allora, la prima cosa è questa. Questa è la prima cosa che vedete oggi. Così, chi ne va a far male, le mette la mano, le mette il piede qua e l'altro piede qua. Mette le due mani, però... E fa così, però... Non lo voglio vedere. Però direi la spinta. Poi, non c'è cosa. Il ponte, allora... Il ponte... Così? No. Che ne va a far? E mettere le mani. Così? Così. E si può sempre così. Ma non si può legare il punto dall'altro. Dall'alto. Fa così. Abbas sempre le di così. O poi sempre le di così. Per me di così in mente. Oh, oh, lo so vedendo anche perché... Lo fa a farlo. E fa così. Ti va un po' male. 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 Però... E poi... Se lo ve un po' male. E poi... Un'altra cosa. E... E... E' una cosa che si deve fare in un muro. Sapete quando... Vado qui. 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 Canina. E io ci vorrei provare. Ma non sono mai copichi. Non lo fa niente quello. Sembra che il mio canno. E se lo faccio fino ad aglio. Si... Un po' così. Un po' più. Sì. Proviamo eh. Questo. Iniziamo una metà cosa. Poi... Facciamo. Tantano. c'è Maria ok poi facciamo scusate poi facciamo un'altra cosa praticamente in ginnastica versus ragazzi sono il flauto di una cosa con uno schifone per favore non cominciate a schifare non si può riuscire potete fare l'auto ok ahahahah 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 ahah ma vabbè ma io sono l'unico veramente ok allora per stare con il flauto di mettere questa qua non ho qua cioè il polizio è qua il vendolo praticamente così e poi questa così questo è un questo è un la ok ragazzi allora non mi faccio più vedere perché è solo un quindi vi faccio vedere la quello io sono 3062 compiti e ok allora patrullerò la mia casa è bella ragazzi bella ragazzi